Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video, il primo video dell'anno, vi auguro un buon inizio 2024 voglio partire con il video delle letture di dicembre ci saranno poi nei prossimi giorni i top, i flop del 2023, il tag di fine anno, insomma tutte le varie cose però volevo partire appunto dalle letture che ho fatte a dicembre che sono state poche rispetto ai miei standard ma sono molto contenta perché ho fatto poche letture ma di qualità ho letto infatti dei libri che mi sono piaciuti moltissimo e quindi sono veramente molto molto soddisfatta di quello che ho letto allora voglio partire intanto con il primo volume della Full Moon Saga di Thea Usai io l'ho conosciuta con la Secret Saga e questa appunto è una nuova saga, questo è il primo volume che gentilmente mi ha omaggiata allora intanto prima di iniziare vorrei farvi vedere quanto è accurato all'interno devo dire che un po' tutti i libri che ho ricevuto questo mese sono molto molto curati comunque veramente molto bello esteticamente detto questo abbiamo la nostra protagonista che è una ragazza di 16 anni che si trasferisce in un piccolo paesino insieme al padre il padre è un etologo di fama mondiale e è in questo paesino per studiare i lupi, il comportamento dei lupi e è una ragazza con un passato un po' ingombrante, un po' difficile allo stesso tempo abbiamo anche Asher che anche lui è un ragazzo di 16 anni nato e cresciuto in questo paesino e anche lui ha un passato difficile entrambi si sentono in qualche modo legati ma non riescono a capire come mai hanno questa sensazione di legame e a un certo punto inizieranno a trovare dei lupi morti il padre della ragazza dovrà indagare e non vi dico altro comunque è un libro che a me è piaciuto molto scorrevolissimo la scrittura di Thea Usai è devo dire migliorata mi sono piaciuti i personaggi mi sono piaciuti anche personaggi secondari devo dire che il mio personaggio preferito è stato Owen che è il migliore amico di Asher mi è piaciuto perché riesce un po' sempre a sdrammatizzare è un ragazzo molto simpatico, allegro, che appunto fa delle battute divertenti ma che allo stesso tempo è molto molto leale, molto amico di Asher mi è piaciuto molto anche il fatto che ci sia una storia, una cultura dei nativi americani quindi chi ne sa poco, come me, magari ha un motivo in più per approfondire ho trovato appunto questa cosa molto interessante ma è interessante anche la trama non ha noia, ci sono dei colpi di scena è ricca di azione e insomma come primo volume devo dire promosso a pieni voti mi è piaciuto tantissimo altro libro che mi è piaciuto moltissimo si tratta di Eclipse è l'ultimo volume uscito dell'autrice un fantasy dalla copertina secondo me meravigliosa questa è la copertina più bella tra tutti i libri dell'autrice e il libro mi è piaciuto altrettanto infatti ho dato 5 stelle qua come protagonisti della storia abbiamo i fai che appunto sono in quest'isola abitata da questi fai che sono legati alla natura Livain è una fai comune e lavora in una taverna insieme alla sua migliore amica una sera come tanti altri fa ingresso in questa taverna un fai dall'area familiare infatti scopre che si tratta di Eldrick che è il suo amico di infanzia quello per cui lei ha avuto una cotta lui è diventato uno dei protettori dell'isola e appunto il suo compito è quello di eliminare i fai oscuri c'è una profezia che è legata al ritorno del più potente fai oscuro e succederanno delle cose questa profezia ovviamente si avvera e non vi dico altro mi è piaciuto molto devo dire che l'autrice qua si è superata nella descrizione del wall building è un mondo molto ricco descritto benissimo queste descrizioni molto evocative bellissime che riescono a trasportarti in questo mondo incantevole quindi secondo me il punto di forza è proprio questo il wall building molto curato e rispetto agli altri libri ho trovato un qualcosa in più proprio nelle descrizioni degli ambienti si è superata diciamo con questo libro seguiamo i punti di vista di Livane e di Eldrick che appunto sono i nostri due protagonisti sono due personaggi che ho amato entrambi è anche questa una storia ben sviluppata ricca di azione ricca di amore contradimenti magia colpi di scena c'è un po' di tutto insomma è un libro che in sole 300 pagine riesce veramente a catturarti a prenderti dall'inizio alla fine si legge molto velocemente come tutti i libri dell'autrice devo dire è assolutamente consigliato altro libro letto altra collaborazione un libro che a me è piaciuto moltissimo che aspettavo da tanto è L'alba del destino di Donatella Tamburini questo qua è lo spin off il primo spin off della saga Es The Reset di cui vi ho parlato abbondantemente negli altri video insomma una saga fantasy distopica che a me è piaciuta tantissimo e questo appunto è il primo spin off è un come sarebbero andate le cose se e devo dire che è stato molto molto interessante all'interno di questo libro di cui non vi dico la trama perché potrebbe essere un po' spoiler se non avete letto la saga all'interno di questo libro troviamo viaggi nel tempo futuri alternativi multipov che è una cosa che a me piace moltissimo trovare dei diversi punti di vista all'interno di un libro mi è piaciuto veramente tanto la scrittura di Donatella Tamburini come al solito è in continua evoluzione quindi sempre meglio se voi vi leggete la saga dal primo libro a questo che è l'ultimo lo spin off vedete proprio un cambiamento quasi radicale dal libro al libro un volume ricco di colpi di scena ricco di azione anche qua un libro che assolutamente non ha noia che si legge velocemente altra cosa apprezzata è che il font del libro è bello grande quindi se avete problemi di vista come me andate sul sicuro assolutamente consigliato come è consigliata tutta la saga altro libro letto e amato è il secondo volume di Alexander Ackerman Il veleno del Libis questo è appunto il secondo volume della trilogia Starving Kingdom è una trilogia high fantasy che mi è piaciuta mi sta piacendo tantissimo manca ancora l'ultimo volume ma non ho dubbi che anche questo mi piacerà molto allora come sempre prima di iniziare a parlarvene voglio un attimo mostrarvi la curatezza che c'è dietro questo libro perché esteticamente è meraviglioso ed è molto curato come è curato come sono curati tutti i libri di quest'autore all'interno vediamo se ne trovo almeno una ci sono anche delle illustrazioni bellissime come in tutti i suoi libri eccola l'autore ci aveva lasciato nel primo libro con un colpo di scena stratosferico un finale veramente dove l'autore ha rischiato il linciaggio da parte di tutti perché non voglio fare spoiler però insomma è un finale molto importante quindi mi ha lasciato tutti con il fiato sospeso fino all'uscita di questo volume attesissimo secondo volume mi è piaciuto tantissimo mi è piaciuto forse leggermente di più del primo ma vanno di pari passo anche qua abbiamo un finale abbastanza illegale ma meno rispetto al primo libro mi è piaciuto molto perché qua abbiamo il wall building che si estende quindi conosciamo ancora di più questo mondo meraviglioso conosciamo la corte della carne conosciamo anche poi i regni del sud governati da due regine che sono in guerra tra loro una governa di notte e una governa di giorno e durante l'alba e il tramonto combattono insomma un mondo affascinante ben curato descritto benissimo e soprattutto molto originale e anche il sistema magico per quanto mi riguarda è molto originale non l'ho trovato in altri libri questa terra questa fame appunto della terra insomma è proprio molto molto originale non ci sono altri termini per definirlo quindi se cercate qualcosa di diverso sicuramente buttatevi su questi libri qua conosciamo inoltre nuovi personaggi come Silta inutile dirvi che sono dei personaggi super bellissimi e fantastici ma al di là dell'aspetto estetico sono anche dei personaggi ben curati molto sfaccettati molto caratterizzati molto veri nonostante siano personaggi inventati con poteri magici e quindi niente non trovo un difetto a questo libro assolutamente consigliato poi ho letto anche un fumetto Witch la magia i 20 anni di magia che è il primo volume edito Giunti la Giunti per i 20 anni dall'uscita del primo libro del primo fumetto ha voluto creare queste raccolte ogni raccolta contiene 5 fumetti quindi ho letto il primo volume i primi 5 fumetti quando ero piccola io avevo un fumetto solo che era tipo il quinto il decimo una roba così e io me lo leggevo e me lo rileggevo mi piaceva moltissimo è stato infatti un tuffo nel passato straordinario mi sono divertita molto a leggere e a ritrovare queste ragazze che hanno accompagnato i miei giorni alle medie mi piaceva perché erano queste ragazze molto comuni che potevano essere benissimo come me o le mie amiche ma che avevano poteri speciali poteri magici e quindi mi piaceva moltissimo e mi è piaciuto rileggere i primi 5 fumetti perlomeno adesso so come tutto è iniziato poi ho letto un piccolissimo racconto La vigilia di Natale che è Ricordi legati al cuore da un filo di brina e cristalli di ghiaccio è un racconto di circa 12 pagine di Amanda Fall ed è un racconto legato al libro Le streghe di Mon Valley che è un libro che io ho adorato ve ne ho parlato in lungo e in largo e questo appunto è un racconto dove riprende un po' la storia la protagonista di questo racconto è Liv che è anche la protagonista del libro dell'altro libro ovviamente siamo a Mon Valley la notte della vigilia di Natale Liv trova nella soffitta di casa sua una boccetta contenente lo spirito di Natale mi è piaciuto molto è un racconto molto breve che però è ricco di profumi di Natale tradizioni di Natale ricco di magia ti avvolge con questo calore natalizio e mi è piaciuto moltissimo mi ha anche fatto un po' venire la nostalgia perché come il libro anche io avrei voluto un po' questa boccetta non vi dico che cosa fa questa boccetta perché il racconto è talmente piccolo che non avrebbe senso però vi dico leggetelo perché è un racconto piccolo ma che merita di essere letto l'ultimo libro che ho letto l'ho finito proprio il 31 mattina ed è un libro che io ho letto in anteprima perché questo libro uscirà se non erro il 12 di gennaio e si tratta di vite legate di Maria diletta veluti è il secondo libro che l'autrice ha pubblicato si tratta di un libro historical romance di realismo magico ed è un libro che a me è piaciuto molto io ancora non ho scritto la recensione quindi non ho proprio nessun appunto andrò un po' abbraccio ci troviamo però nel 1902 in Italia a Castiglione d'Adda e qui troviamo la nostra protagonista Angela che fin da bambina ha delle visioni queste visioni però non sono ben accettate dalla sua famiglia borghese quindi decidono di chiuderla in un manicomio allo stesso tempo abbiamo anche un'altra persona un uomo che ha una vita molto complicata e si ritrova ad essere in qualche modo legato ad Angela le due sono legate da un filo invisibile e devono scoprire perché è un libro che a me è piaciuto moltissimo intanto mi sono piaciuti molto i personaggi che sono dei personaggi molto realistici ben descritti ben caratterizzati con dialoghi veritieri quindi un punto a favore mi è piaciuto anche il rapporto che i nostri protagonisti hanno con le persone che li circondano quindi questa parte della storia è costruita molto bene la trama è molto interessante seguiamo punti di vista appunto dei due protagonisti e devo dire che mi ha incuriosito da subito magari avevo intenzione di leggere un capitolo poi finivo per leggerne 4 o 5 perché non riuscivo a smertere di leggere ero proprio curiosa di vedere come andava avanti la storia un'altra cosa che mi è piaciuta molto di questo libro è il fatto che l'autrice ci racconta ci descrive la vita nei manicomi italiani di quel tempo una vita dura una vita piena di abusi di torture in cui non erano solamente le persone con problemi mentali a essere rinchiuse nei manicomi ma anche persone che erano un po' scomode alla società come ad esempio Angela ma come altre persone magari una ragazza che ha avuto un'amante magari è stata chiusa per litigi o il marito che si trova un'amante e non vuole più la moglie tra i piedi quindi abbiamo delle persone normali che vengono chiuse in questi manicomi e torturate e questo è una parte storica vera che è successa in Italia che l'autrice ha saputo descrivere molto bene senza essere eccessivamente pesante ma è riuscita comunque a descrivere uno spicchio di quello che succedeva nei manicomi italiani nei primi del novecento quindi un libro che a me è piaciuto molto poi ovviamente c'è anche del realismo magico è un libro abbastanza breve perché sono 212 pagine ma è un libro che vi consiglio perché sicuramente vi saprà suscitare delle emozioni abbastanza forti benissimo quindi queste sono state le letture che ho fatto nel mese poche ma vi ripeto molto buone quindi sono stata molto contenta fatemi sapere voi che cosa avete letto a dicembre che cosa state leggendo in questo periodo se avete letto qualcuno di questi libri o se ne avete altri da consigliarmi se il video vi è piaciuto lasciate un like un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao